Le prime urgenze sono quelle dei cantieri, cantieri che abbiamo ereditato, molto problematici, penso ad esempio all'Anfiteatro Rastata in Sassonia, oppure quella di Torrette, dove abbiamo dovuto inserire degli interventi urgenti per riaprire il prima possibile ai turisti e a chi passeggia il percorso in sicurezza. Un altro cantiere molto problematico per la quale abbiamo deciso di convocare tutte le associazioni di categoria e gli operatori commerciali, gli esercenti e gli operatori del mercato del pesce è quello di Piazza Andrea Costa, abbiamo stabilito insieme il modus operandi per andare avanti con il cantiere, quindi non verrà fatto più il nuovo pavimento che avrebbe comportato la chiusura di tutto il mercato del pesce per circa due mesi, ma verrà fatto un lavaggio approfondito del suolo e rifatto l'intonico e l'illuminazione e installati i cancelli che non erano previsti per il mercato del pesce, quindi gli operatori potranno continuare a lavorare. La parte scavata che è stata ricoperta dalla prossima settimana potranno reinstallare i tavolini per gli operatori che hanno, diciamo, la pizzeria piuttosto che il Bello e la Bestia, il ristorante e inizieremo a scavare invece, quindi proseguiremo con l'opera di scavo di tutto il resto dell'area non completamente, ma quella lato via Montevecchio per permettere, diciamo, a tutti gli ambulanti di continuare a lavorare in maniera tranquilla e serena, magari restringendo il campo d'azione ma permettendo anche, ad esempio, il pomeriggio alle persone che vogliono parcheggiare nella piazza di poterlo continuare a fare. Un intervento importante di ascolto che avevamo promesso in campagna elettorale e che oggi, dopo dieci giorni, massimo due settimane, stiamo portando avanti. Siamo stati convocati di AENAC con la Fanonfortune e insieme al vice sindaco siamo andati dal direttore e, diciamo, ci hanno confermato la loro intenzione di lasciare le risorse a disposizione per l'analizzazione della pista in cemento. Io ho confermato l'intenzione ferma e forte dell'amministrazione comunale di divenire il prima possibile al passaggio dei terreni che sono in capo al comune e al demanio statale per consentire a AENAC di fare la gara d'appalto, fare prima il progetto esecutivo, quindi tutte le autorizzazioni, gara d'appalto e realizzazione della pista in cemento. Questo significa un'azione vera di sviluppo della nostra città che riguarda il nostro aeroporto.